Consigliere Paesi, ieri sera l'ultimo Consiglio Comunale in ordine di tempo, pare ci sia stato anche ieri un po' di maretta, è mancato il numero legale, è stato approvato un provvedimento tra le polemiche, ci può fare un suo resoconto? Sì, ieri l'ennesimo spettacolo indecoroso dato dal Consiglio Comunale e da questa amministrazione, la maggioranza ha approvato una delibera che non delibera niente sulla società Enaus perché di fatto è un passo indietro rispetto alla delibera di giunta di due mesi fa, la quale scarica sul Presidente Tagliarini l'adempimento di un compito che il Presidente Tagliarini e la società Enaus non è in grado di adempiere e questo mettendo a grandi rischio la stessa sopravvivenza della società Enaus, del lavoro di chi appunto vi presta la propria attività e del servizio di manutenzione della città. L'ennesimo, diciamo, fumo agli occhi che questa maggioranza cerca di dare alla città, però priva di qualsiasi contenuto concreto amministrativo. Poi si è passati invece al regolamento sulla Tares. Sì, anche questo, diciamo una pagina poco dignitosa della politica, si è arrivata a discutere di un provvedimento importante come la definizione delle nuove tariffe della Tares, cioè della nuova tassa su rifiuti solidi urbani a mezzanotte. Questo è evidentemente poco rispettoso e dignitoso del lavoro di un Consiglio Comunale, soprattutto quando affronto un problema così importante. Io ho chiesto che l'argomento venisse posticipato, venisse trattato in un'altra seduta per consentire a tutti quanti noi di affrontare il problema, con la lucidità che questo meritava, mi è stata rigettata la domanda e la maggioranza ha deciso di andare avanti. Purtroppo però la maggioranza ha preferito, probabilmente aveva necessità di rinfocillarsi, di sospendere per mangiare qualcosina. Noi siamo rimasti, l'opposizione è rimasta in aula, ripeto, era passata la mezzanotte, è rimasta in aula ad attendere perché appunto si discutesse. Sono passati 20 minuti, il segretario non ha potuto che constatare l'assenza, quindi la mancanza di numero legale e mandare deserta la seduta. Ecco, un apparente, un siparietto poco decoroso che certamente non fa onore alla politica ma soprattutto perché ha gravi danni alla nostra città.